I Champions sono attrezzati, hanno la possibilità di cambiare 11 calciatori, hanno cambiato moltissimo. Non si sa come invece era riconoscibile fino a questo momento nell'Inter quale siano i calciatori della formazione base. I calciatori della formazione base sono 22 di loro, mentre noi per quelli che hanno giocato più spesso erano questi 13-14. Ma è stata fatta questa scelta qui anche proprio per far crescere l'autostima, perché se avessimo vinto le stesse partite cambiando sempre formazione non avevo individualmente a supporto un pacchetto di gare, una forza sicura che mi poteva sostenere in questo momento qui. Ma nel possesso palla siamo migliorati molto, stiamoci attenti a dover bocciare, perché poi quello lì viene, ti fa l'esame e te la spiega tutta, a te che credi di essere il professore. No, perché quello è una riserva, che riserva? Quello è uno che non ho fatto giocare, che riserva? E ne devo scegliere 11 e ce ne ho 20 giocatori, 7-8 da rimanere fuori, ma non giocano, sono le riserve. Sono le riserve, per voi sono le riserve, per me sono altri titolari, è il taglio che gli si dà alle cose. Grazie.